10,8 guarda quanto sono piero 12,7 no tu sei più piero non guarda eh ma io sono il dio della guerra cosa vuoi di più no ma ora se ne esce il dio della guerra il dio della guerra dimmi cosa vuol dire new red e poi potrei vantarti new red vuol dire che sono che sono rosso talmente rosso che sembro nuovo anche se sono vecchio non l'ho capita che sembri un nuovo un uovo un uovo o un uomo chi è un uovo cosa hai sentito un uovo non sono un uovo rimaniamo così io contro di te vediamo poi che più fiero cioè qui qui non co qui ah no allora qui non conta quante che il facciamo quante volte ci uccidiamo fra di noi ah ok mi sembra un'ottima logica io rimango con la doppietta allora eh vabbè ma tu sei stronzo io sono la va bene va bene intanto io ho il bellissimo bombardamento che stronzo tu sei più stronzo tu eh parla lei con il kit medico a fianco quanto è bella proxy la devo sbloccare è talmente cagacazzo che mi sta simpatico ora io ti faccio il culo eh va ora è arrivato lui mi fa il cuore guardala già la sento già ti sento già olè 1 a 0 ma dove eri tu bastardo io ho sfruttato io ho sfruttato il mio compagno ho sfruttato il mio compagno ti stavo sparando adosso nooo non vale tu hai usato lo scudo umano nooo passavo di lì ah ok queste kill sono scorrette guardalo guardalo e da lì non mi becchi con la doppietta però eh vieni fuori no no vieni fuori ti facevi tanto figo con la doppietta vieni qui vieni qui no no ma che vengo qui abbandona guardalo che viglia guardalo guardalo 2 a 0 ed eri anche sulla torretta quanta vita ti è rimasta nooo ti ho missato miseramente aah cura mia amica nooo non ci stavo ricaricando cavolo per un colpo vabbè dai 2 a 1 ho fatto un delirio che palle questa te la prendi tutta aah aah è stata bellissima questa quello che ho ucciso solo me che la granata c'era anche l'amica mia e il laser va bene non vale non vale bellissima è stata bellissima io stavo felicemente ecco bravo bravo eh così si fa guarda che stanno plantando ecco a posto siamo qui per voi è leggermente più facile nooo sei morto male eh mi hanno qui per voi è più facile ma l'ultima volta ho fatto full team con un semplicissimo supporto ace in the hole olè olè l'ho fatto di nuovo bellissimo bellissimo chi è sta con il kit bombardamento è quasi più lame su bombardamento non può dire nulla eh è fastidiosissimo ah non eri te ok ignorate mi sono un pinguino ahah guarda che guarda lo guarda sei morto malissimo aia per un pinguino perché dici che sei un pinguino perché ci sono i pinguini sono ho indiottato un tizio così a caso Ho notato. Cavolo. Eh, lo so, sono stato bravo lì. Ho fatto... Ho fatto un'ottima missione su scivido e poi i miei amici hanno... Mi sembravi tu, porco cane. Oh, tranquillo che... Quando mi vedi sarà già troppo tardi. Sto facendo kill ma non su di te, non vale. Vabbè, noi vinciamo così però. Vai a defusare, vai! Ah, ok, mi hai dato un indizio, sei lì dentro. Beccati sta granata. No, la granata stai lanciando, vaffanculo. Eri tu quello? No. Io sono un pinguino, te l'ho detto, io non esisto. Oh, cio. Porca! Tu non hai idea, hai presente dove è passato il treno? Eh. 20 centimetri. Mi è passato a 20 centimetri dal naso. Guardati! Guardati! Maledetto! Sono una polpetta! No, tu sei un deficiente! Credo di averti visto morire, ma non ero io quello che contro cui combattevi. No, no, ma io sono vivo, io sono vivo. Oh, cazzo, mi sono grattato. No, no, no. Ci muore male questo, ci muore. Olè! Voglio sempre io dei tuoi bombardamenti. Cavolo! C'è bello che poi l'ho visto e ho detto, ma quello è un bombardamento? Ci sono rifasti lì sopra. Io sto vincendo, eh. C'è tu un bombardamento? Io sto vincendo, eh. Ti odio. Io ti voglio bene. Non vale, non vale. Ma perché non ti becco? Dai, uccidi i tuoi alleati e non te. Ho sbagliato là. Così mi vendico. Oh, è vero questa missione. Mi vendico delle volte che mi hai chiccato dal server. Non è mai successo una cosa. No, no, no. Oh, ma prendi sta cosa. Maledetto, tu arrivi da dietro, ti ho visto. No, non è vero. Sono un prosciono. No, tu sei un coglione. Guardalo, guardalo! Guardalo! L'ha già sta granata! Non ce l'ho! Ahahahah! E ora ti finisco. Non faccio me! No! È stata una scena critica al mondo! No! Ho visto proprio la mia amica che è venuta ad ucciderti! No, io sto venendo lì ad ucciderti. No! Guardalo! Guardalo che nabbo! Guardalo! Mamma mia, lì con il kit medico! Non vuoi dirmi che hai presso l'aura pure tu? No, io sto arrivando, io sto arrivando. Ma di che non si va da nessuna parte? Porca troppo è stato... No! Abbiamo fatto sbagliato! No! Perché ci abbiamo camperato lì e prima non avete potuto un cazzo, hai visto che strategia? Io c'è... Mamma mia, ma... Vabbè, nel frattempo la sfida l'ho vinta io. La sfida l'ho vinta io.